5 ragazzini, Francesca, Giuseppe, Mattia, Artemisia e Giovanni, uniti dalla voglia di giocare con i videogiochi, vengono affascinati dalla figura di Cardi Urbani, medico e angelo custodi di migliaia di bambini, che ha salvato dalle più terribili e diffuse epidemie dei paesi tropicali. Vengono a conoscenza di una fondazione a lui intitolata, che raccoglie fondi per attività di beneficenza e assistenza medica alle popolazioni care al medico. Così, in un giorno di forzato isolamento dovuto a una punizione, decidono di mettere in piedi la manda Cardi Urbani, che si occupa di raccogliere fondi in modo molto creativo. Tra pasticci, imprevisti e battibecchi, riusciranno i nostri eroi a combinarne una buona?